Per me non c'è nulla di personale, ci sono grandi problemi del paese. Se vuole glieli elenco, perché così ci liberiamo da questo stupidissimo duello rusticano, che proprio è una stupidaggine, è una guapperia, a cui io personalmente non sono interessato. La guapperia di Renzi? Sì, ha sempre quest'aria un po'... Invece dovrebbe rispondere di come ha governato il paese. Ha promesso una grande riforma delle istituzioni e 20 milioni di italiani gliele hanno cancellato. Ha promesso una bellissima legge elettorale, disse persino la più bella del mondo ce la copieranno, perché forse lei si è dimenticato di quello che ha detto Renzi, ma io me ne ricordo, come anche tanti italiani. Cerchiamo di ricordarlo. E invece la Corte Costituzionale gliel'ha cancellata con un tratto di penna perché era sbagliata, era illegittima, perché non sono capaci oltretutto. Ha fatto questa bellissima riforma del Jobs Act che adesso sta producendo precariato, licenziamenti, e che è sottoposto un referendum popolare che o il governo corregge la legge o provvederanno i cittadini. Ha fatto una legge che ha chiamato buona scuola. Io inviti un po' di insegnanti e chiedo da loro se la considerano buona, diciamo, quella riforma oppure no. Cioè è un bilancio molto negativo. Aggiungo che mentre è in corso in Europa una modesta ripresa economica, ma c'è una ripresa economica, l'Italia risulta quest'anno penultima, penultima nell'eurozona, e le previsioni economiche per l'anno prossimo dicono che siamo ultimi. Quindi, evidentemente, quando ci viene detto che grazie alle riforme di Renzi il Paese si è rimesso a correre, veniamo presi in giro. Ora, le persone che stanno male, in questo Paese in pochi anni i poveri assoluti sono passati da 1.700.000, che erano nel 2008, a quasi 5 milioni. Le persone che stanno male si sentono prese in giro se chi governa gli dice che tutto va bene.